Buongiorno e bentrovati. 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 E' tredicesime, sempre all'Aquila, Parcelli, Nevase, citati comune e condominio. In basso, ragazzino rapinato dai banditi, paura al luco dei marsi, in tre fanno irruzioni in casa di un sedicenne. E ora la prima pagina del messaggero Abruzzo, che apre così, vive all'occidentale e picchiata. Chieti, 17 anni, obbligata a non uscire da casa e colpita anche con un mattarello, tolta la famiglia musulmana dopo lo sfogo con un'amica. Indagati i genitori, sotto la testata Pescara, stangata a Cesena, ora è notte fonda per Zeeman, la prestazione comunque c'è stata. Serie C, Teramo, vittoria d'obbligo contro il Fano, calcio a 5 a Questapone con il Latina per lo scettro. Pescara a Napoli, di Spalla, leggiamo, le uniformi sono inadatte, l'eliambulanza resta a terra. Le parole del consigliere regionale Febbo, chiederò di chi è la colpa per l'eventuale danno erariale. Paolucci, solo un disguido. La fotonotizia, investimenti non solo a Roccaraso, il PD mette alle strette D'Alfonso. Poi scendiamo Teramo, brilli al volante, anche la mattina. Poi la città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre così sanità a rischio sotto le feste. Nursing pronto a dichiarare lo stato di agitazione per la carenza cronica di personale negli ospedali. Poi la fotonotizia, acceso il Natale, si rinnova la tradizione dell'Immacolata, ovviamente anche a Teramo. Alcuni richiami di Spalla, che leggiamo a Tortoreto, la gestione dei migranti è fuori controllo, a Sant'Egidio a rischio allo storico carnevale, a Giulianovo un hospice al posto del mercato coperto. E poi ancora il successo per i faugneri, vive ad altri la tradizione del fuoco. E poi per lo sport Serie C, Teramo contro il Fano, è vietato sbagliare. Lasciamo i quotidiani locali, andiamo ora a sfogliare le prime pagine delle testate nazionali. Partiamo con il Corriere della Sera. Vediamoci ora qualche problemino, probabilmente, con il nostro touch. Allora, io cerco un attimo di uscire e ripristiniamo subito il touch screen. Ecco qui. Allora, il Corriere della Sera, questo è il titolo d'apertura. Brexit, accordo sul divorzio, garantiti i diritti dei cittadini dell'Unione Europea. Ora il via ai negoziati, dieci mesi di trattative. La svolta, intesa Londra-Bruxelles, sui conti e confini aperti con l'Irlanda. May e Juncker soddisfatti. E poi sotto la testata per la politica, i 5 Stelle salgono al 29,1%. Centro-destra al 36 PD ancora in calo. Il partito di Grasso al 6,6%. E poi ancora la fotonotizia, Gerusalemme capitale, l'Italia dice no a Trump, all'ONU 5 Stati Europei contro gli Stati Uniti, due morti a Gaza. La prima pagina di Repubblica, questo è il titolo d'apertura. Fascisti, un italiano su due ha paura. Sondaggio di Repubblica, Renzi scende ancora, il PD al 25%, Movimento 5 Stelle. Il primo partito oggi in piazza Como contro i neonazi. Di Maio non va, Napoli è forli. Raid di Forza Nuova. E poi in basso, ecco qui nella fotonotizia, May si arrende, la Brexit soft ci cambia così. E poi ancora in fondo, spaccatori in Parlamento, Vitalizi, guerra tra i dem per l'emendamento che ripropone Italia. Gerusalemme, l'altra intifada dei giovani palestinesi, inutile farsi uccidere. Poi la polemica, da Forza Italia ai garanti, l'appello al Colle dell'Utri sta male, dategli la grazia. Il fatto quotidiano con l'apertura dedicata ai fatti di Mantova, i messi comunali per il Crodino, altri guai per il sindaco a luci rosse. Nuova inchiesta per peculato su palazzi del PD e il mentore Renzi non fiata. Poi sotto la testata, Trump e Bibi, sete di potere che fa un morto e 700 feriti. Giornata di guerriglia in tutta la Cis Giordania e a Gaza. E poi a centro pagina, cortina fumogena e niente prove. USA la fake news di Biden, Putin dietro Movimento 5 Stelle e Lega. E poi ancora, sempre in taglio medio, scuola magistrati, ne cade un altro, richieste le tabelle dei fidanzati. Le strane selezioni del consigliere Bellomo. La prima pagina del messaggero, ecco l'apertura, Brexit, ecco il compromesso. Chiusa la prima fase della trattativa, nessuna frontiera in Irlanda, 45 miliardi per il divorzio. Bruxelles evita l'affondo per salvare il governo della MEI. I tagliani, i 27 dell'Unione Europea, sono uniti. Sotto la testata per lo sport, Roma col Chievo torna a Gonalons. Mentre Leiva, ora per Inzaghi, ora Inzaghi ha trovato un leader. E poi scendiamo a centro pagina con la fotonotizia. Israele, intifata di sangue nei territori, Unione Europea contro Trump, non aiuta la pace. Sempre centro pagina, Roma, sfogo del Papa, reagire al degrado, basta rassegnazione. Francesco in piazza nel giorno dell'Immacolata, affermare indifferenza e maleducazione civica. La prima pagina di Libero, quante donne impazzite vogliono riscrivere 170 mila leggi volgendole al femminile. La mamma che ha ucciso le sue creature rifiuta. Le cure potrebbero restare libera. Ogni settimana beccano maestre che picchiano bimbi o infermiere che pestano anziani. C'è chi fa prostituire la figlia. Pure la mafia è sempre più rosa. E poi la fotonotizia dedicata allo sport e al big match di questa sera. Sesta sera l'Inter batte la Juve e diventa la nuova padrona del calcio. Spalletti tra sogno e realtà non ha mai vinto a Torino. Avanti ancora e siamo al sole 24 ore. Su Brexit c'è il primo accordo. Ora parola ai 27 con il sì via la fase 2 del negoziato sul partenariato Unione Europea-Gran Bretagna. Juncker, progressi sufficienti su diritti dei cittadini. Irlanda, impegni finanziari ma restano le incognite. E poi il tempo. Abbiamo visto prima su Repubblica il movimento che c'è intorno alle condizioni dell'ex senatore Marcello Dell'Utre. Ecco qui, firma anche tu per Marcello e l'apertura del Tempo. Appello a Mattarella, vittima dell'ingiustizia, gravemente malato, Dell'Utre rischia la vita. Scrivi a firma per Dell'Utre, Chioccio del Tempo.it per chiedere al Presidente di concedere la grazia. E poi a centro pagina la fotonotizia Madonna che è degrado. Francesco prega Maria contro i mali di Roma. E poi ancora, sempre al centro, un po' più in basso, ecco qui le accuse dell'ex Vice Presidente USA Joe Biden. Mosca aiuta Movimento 5 Stelle e Lega. La stampa, ecco l'apertura. Così Mosca aiuta Grillo e Salvini. Ingerenze russe, vertice Gentiloni, Alfano. Andremo fino in fondo. Di Maio fuori le prove. Dopo la denuncia di Biden parla Carpenter, già consigliere di Obama, a rischio la trasparenza delle elezioni. E poi ancora un paio di richiami. C'è l'intesa sulla Brexit. Tutele ai cittadini dell'Unione Europea. Migranti, addio alle quote, impossibile aumentare. E poi la fotonotizia. Il Nord frana. Crollo ogni due giorni. L'inchiesta in dieci anni, 2100, trasmottamenti e alluvioni e il maggior numero di vittime, 85 su 117. Le regole per salvare un paese friabile. Il mattino con l'apertura Brexit, conto da 45 miliardi, siglato l'accordo, nessuna frontiera in Irlanda. La May all'angolo. La Gran Bretagna accetta le condizioni per l'uscita dall'Unione Europea. A Bruxelles la fase 2 sarà ancora più dura per lo sport. Domani a San Paolo allarme in signe e salta il match con la Fiorentina. E poi in basso vediamo Biden accusa la Russia, aiuta Lega e 5 Stelle. La fotonotizia razzi da Gaza, poi i caccia di Israele, Gerusalemme capitale, no di Roma. Il manifesto, preghiere al vento. Ecco qui l'apertura del manifesto venerdì della colera con scontri e arresti feriti. Almeno un palestinese ucciso in risposta al riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele da parte degli Stati Uniti. Che ignorano le suppliche giunte da ogni parte e al Consiglio di Sicurezza dell'ONU rivendicano. Avanti ancora con la verità che scrive, dice la verità e alla fine i risultati arrivano. Profughi, prefetto e procura indagano sul capo della Coppa pagato 8 mila euro. Banche, commissario svela, avete evitato che fosse insabbiato lo scandalo Etruria. E poi l'ultima, Angheria, vietato pagare stipendi incontanti per la norma voluta dal PD. Neppure la scusa dell'evasione, solo un favore alle banche. Causa all'Inail per 32 miliardi tolti alle aziende. Ora l'avvenire con questa apertura, lasciamoci così, senza frontiere. Intesa per l'uscita amichevole di Londra dell'Unione Europea. Primo accordo tra Juncker e May prevede tutele per i cittadini europei. Niente barriere tra Eire e Irlanda del Nord, il nodo dei commerci. E poi la fotonotizia, il Papa Maria, esempio contro indifferenza e degrado. Lasciamo ora la rassegna dei quotidiani nazionali, delle prime pagine. Torniamo ai quotidiani locali, lo facciamo attraverso le pagine del centro per iniziare. Siamo a pagina 2, in questo caso si parla di turismo invernale. Ecco qui si investa in tutto l'Abruzzo interno. Pietrucci e Pezzopane ad Alfonso. Bene Roccaraso ma ora priorità ai fondi per Ovindoli. Campo Felice e Campo Imperatore. Poi in basso, siamo in Valle Roveto. Cunicoli di Claudio, ecco il gioiello da salvare. Vanno a Capistrello i fondi stanziati dal FAI per il recupero dell'opera idraulica di epoca romana. Pagina 3, nuovo centro commerciale. La diga antialluvione non è completa. A 48 ore dall'inizio dei lavori per Mirò, il vero nome di Megalo 2, svegliamo un documento che può imporre lo stop. Qui troviamo alcuni scatti, la barriera metallica alta a 2 metri contro le sondazioni e il punto in cui la struttura diventa troppo bassa. Vediamo ora il servizio realizzato ieri dal TG6 su Megalo 2. Un progetto dannoso per l'ambiente e per il piccolo commercio è pericoloso per la popolazione. Pescara.0 e Archeoclub Pescara definiscono così il Megalo 2 che dovrebbe sorgere nei pressi del centro commerciale Megalo aperto nel 2005. Il nuovo polo commerciale, così come il precedente, dovrebbe essere costruito nel pieno della cassa di espansione del fiume Pescara in zona Santa Filomena, una parte di Chietiscallo ad alto rischio idrogeologico. Nella giornata di ieri il dirigente del Genio Civile Vittorio di Biase ha inviato una lettera ai comuni di Chieti e Cepagatti, alla regione e alla Sile Costruzioni, la ditta bergamasca proprietaria del terreno, ponendo una serie di paletti alla realizzazione dell'opera. La lettera è arrivata dopo la sollecitazione del presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso che aveva chiesto di attivare ogni utile iniziativa volta a interrompere ogni attività da parte della società Sile. Pescara.0 e Archeoclub hanno anche ricordato come il Megalo già nel 2015 era stato inserito tra i dieci edifici più pericolosi d'Italia nel dossier effetto bomba di rega ambiente. Aggiungere altro cemento lungo gli argini del fiume, secondo le associazioni, significa creare un effetto domino mettendo a repentaglio i comuni a valle, Pescara compresa. Adesso si continua in questa opera di stupro e di distruzione del territorio con la costruzione del Megalo 2 che è un problema non solo perché distrugge il tessuto economico del territorio ma soprattutto perché va a sommarsi a un rischio, a una pericolosità che già è presente in maniera evidente sul fiume Pescara nella parte più antropizzata, cioè quella che ha le porte di Spoltore e che quindi arriva fino alla foce del fiume Pescara. Pescara.0 e Archeoclub si dicono anche contrari alle vasche di laminazione, un progetto da 55 milioni di euro contenuto nel masterplan che, ricorda Giovanni Damiani, consente di contenere solo il 5% di un'eventuale piena del Pescara che è il secondo fiume d'Italia sul versante adriatico dopo il Po. Bisogna capire che il fiume non è soltanto l'acqua che scorre ma vive soprattutto della qualità delle sue sponde. Se noi queste sponde le asfaltiamo, le cementifichiamo, togliamo tutta la vegetazione il fiume non può che peggiorare. E questa cosa che sto dicendo è alla base di uno dei parametri che l'Unione Europea e la legge nazionale, il decreto legislativo, testo unico ambientale, raccomanda di considerare in tutte le valutazioni. Le vasche di laminazione possono risolvere, servono a qualcosa? Ma le vasche di laminazione naturale le invadiamo con i megalò e poi ne costruiamo di artificiale specie dei cittadini. Già questo, dal punto di vista sociale, è assolutamente inaccettabile. Dopodiché, se è vero che queste vasche riescono a contenere, secondo il Consiglio Superiore di Lavori Pubblici, solo il 5% di un alluvione, il 95% ce lo dovremmo beccare tutti quanti. E questo è un motivo aggiuntivo per dire megano, non megalò. E ora siamo a pagina 12, sempre sul centro. La ricetta per l'emergenza abitativa edilizia sociale. La Regione cerca privati per investire. Nasce il Fondo Immobiliare Etico, serve per dare una casa ai più bisognosi. L'assessore Di Matteo, ci sono 45 giorni per rispondere al nostro bando. Poi ancora, la parola ai magistrati abruzzesi. Lavoro, le cause sono sempre più complesse, parla il giudice Luigi Santini della Corte d'Appello. Abruzzo fuori dalla logica assistenzialista. La giustizia italiana tra le più produttive d'Europa, ma deve fare fronte ad un arretrato stratificato nel tempo. È impensabile da smaltire da un giorno all'altro. E poi in aumento le controversie in materia di pubblico impiego, contratti flessibili, risarcimento di danni da mobbing e situazioni di precariato. Avanti ancora, siamo alle pagine di Pescara, con la lettera riservata che è stata inviata dall'assessore all'urbanistica civitarese al sindaco Alessandrini. Sono pronto a lasciare. L'assessore al traffico e all'urbanistica si sfoca con il sindaco e i consiglieri se non condividete i miei progetti vuol dire che non avete più bisogno di me. Poi altri passaggi. Se non fosse questa la visione effettivamente condivisa e prevalesse l'idea di dare priorità a una politica per così dire senza strategia, sarebbe il caso di dircelo chiaramente e serenamente. È ovvio che per una politica senza strategia non vi è bisogno di sottoscritto e per gestire il quotidiano, vi sono certamente politici più adatti e più bravi di me. Tra i nodi principali sul fronte dell'urbanistica e quindi i progetti in sospeso qui vengono riepilogati dal centro, c'è l'area di Risulta e poi ancora Corso Vittorio Emanuele, ecco qui poi la cittadella dello sport e il piano urbano del traffico. Questi alcuni dei nodi portati sul tavolo dell'assessore Civitarese. Avanti ancora siamo a Piazza Salotto con la protesta dei commercianti. Noi multati per un fiore, rivolgiamo un centro scicchi. I commercianti hanno riavuto le luci ma serve altro per eliminare lo squallore. Poi ancora le parole dei commercianti cruciani e della Croce, paghiamo fino a 4 mila euro l'anno di occupazione di suolo pubblico e non possiamo sistemare una pianta per abbellire l'esterno. Siamo a Rocca Scalegna nel Chietino per questa tragedia durante l'esibizione. Artista di strada muore davanti ai bimbi, Marco Filippone aveva 41 anni, si è sentito male durante uno spettacolo natalizio in piazza a Rocca Scalegna. C'è pagati, piange il professionista dell'allegria, dolori in paese. Lavorava da 15 anni nel campo dell'intrattenimento, apprezzato per la sua umanità. Avanti ancora e torniamo in provincia di Pescara. La provincia vende i beni incassati 300 mila euro. Il pieno di alienazione delle proprietà dell'ente ha prodotto i primi introiti, dismesso un terreno a cappelle, a breve un bando per una ex casa cantoniera. E poi di spalle il centro ci ricorda che questa mattina si svolgeranno i funerali dell'ex assessore Giorgio D'Amico nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori. Ore 10. Avanti ancora Pescara brucia a 654 milioni per giocare d'azzardo. Impressionanti i dati del 2016, la media per famiglia è di 4.834 euro l'anno. In Abruzzo si spreca in slot e lotterie più che in regioni ricche, 2,5 miliardi. Avanti ancora festa di Natale Fidas con comici, cantanti e spettacoli per bimbi, donatori di sangue, ingresso gratis domani al Palacongressi attese, 3 mila persone per gli show di Pasotti, Luciani e Sgrilli. E poi ancora a Pescara Lail schiera le ragazze del volley, l'atleta dell'Antoniana oggi e domani nelle piazze cittadine con i volontari per vendere le stelle di Natale. A Montesilvano, ecco qui le parole del neoprefetto Gerardina Basilicata, neoprefetto di Pescara, la priorità è ridurre il numero dei migranti in città. Gerardina Basilicata ha indicato Montesilvano come il fulcro degli interventi su sicurezza e ordine pubblico. E poi la proposta bus notturni per tutte le feste, il Movimento 5 Stelle chiede di estendere le linee 21 e 38 all'intera area metropolitana. E poi la cronaca Città Sant'Angelo schianto con l'auto della polizia, tre feriti, Panda finisce contro il mezzo della polstrada sulla provinciale, il conducente sbalzato fuori dal veicolo. Avanti ancora, siamo a Francavilla, terzo depuratore, mancano due milioni. Sarchese dei 5 Stelle mette in dubbio il cronoprogramma dell'ACA che annuncia la realizzazione dell'uomo impianto nel 2019. A Cepagatti invece concorso Illumina il Natale con oggetti di riciclo. a Penne ha aperto il cantiere della nuova scuola Giardini, avviati da un mese gli interventi di sbancamento nel sito di Via dei Lanaioli. L'opera costerà 5 milioni di euro. Siamo alla pagina di Chieti, università sospese, sei scuole di specializzazione, mano dura del Ministero su Medicina, accreditamento solo temporaneo per altri corsi. martedì incontro a Roma. E sempre in tema di università, lunedì al rettorato dibattito su etica e legalità con Forte, Caputi e Legnini. E poi doppia causa contro l'ex direttore, oltre 100 dipendenti chiedono il risarcimento danni a Del Vecchio, per violazione della privacy. Avanti con la pagina aquilana, paura a Luco De Marsi, rapinato in casa a 16 anni da tre banditi, assalto in pieno giorno, il ragazzo immobilizzato e minacciato con un cacciavite, i complici rubano denaro e gioielli. E poi sempre la cronaca, arrestato ingiustamente, ottiene i danni, il 27enne di Pescina assolto in appello dall'accusa di spaccio, risarcimento per il clamore mediatico. E poi a Rivi Sondoli, che tra le altre cose è il centro noto per il presepe vivente, ed ecco Madonnina e San Giuseppe, scelti i principali figuranti del presepe vivente, arrivano dall'Umbria, omaggio alle terre colpite dal sisma. Infine la pagina teramana, intanto con il giallo della pittrice, interrogati tutti i conoscenti di Renata, da Ancona gli investigatori hanno ascoltato decine di persone, ci sono anche quelli del gruppo di preghiera della donna. E poi ancora verso le elezioni politiche, Camera Silvi torna a far parte del collegio di Teramo. E a proposito di Teramo, all'inizio settimana è caduta l'amministrazione guidata da Maurizio Brucchi, ancora le conseguenze e le polemiche, dopo quanto accaduto l'omedi scorso, Brucchi, colpa di gatti e chiodi, per l'ex sindaco sono stati loro a pianificare la sua caduta, spaccando Forza Italia, mentre ad Atri in 10.000, per l'antico rito della notte dei faugni, ecco qui uno scatto della festa che si è svolta come sempre nella notte tra il 7 e l'8 di dicembre ad Atri. Noi ci fermiamo, spazio alle previsioni del tempo, la pubblicità e poi rientriamo con la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo con il messaggero, ecco qui pagina 38 dell'edizione abruzzese, del messaggero, studenti e lavoratori in fuga durante la crisi, persì 4.552 abitanti solo da inizio anno, i giovani ormai cercano un impiego altrove, area metropolitana di Pescara, Dio Appil, anche i migranti preferiscono cambiare regione, secondo l'economista Aldo Ronci, i segnali di ripresa ancora non sono stati percepiti da parte degli abruzzesi. In basso il PD ad Alfonso, non solo Roccaraso, si investa anche sulle altre montagne, l'intervento dopo l'inaugurazione dei nuovi impianti sciistici, la presenza del Ministro Lotti, ci sono già i fondi da assegnare a Ovindori e ai comuni di Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo. Avanti con la pagina di Pescara, ecco qui, villaggio natalizio, occasione persa, dalle casette in Piazza Sacro Cuore allestite in forte ritardo, operatori in fuga restano solo olive, bigiotteria e ciambelle, Cuzzi si riscatta con gli eventi, gospel, orchestra e gustarte, stasera al Teatro Massimo il concerto di Piero Mazzocchetti. Poi in basso i privati accendono Piazza San Francesco, negozianti e cittadini finanziano le luminarie su Viale Kennedy e anche su Viale Bovio, ma non tutti hanno partecipato. Avanti ancora, sempre a Pescara, ragazzi contro questa politica scadente, scendete in campo voi, il monito dell'arcivescovo Valentinetti e i giovani di azione cattolica, Rigopiano, aziende in fuga e caso banche, emblema di un fallimento, a sorpresa consensi, arrivano da tutti gli schieramenti con Frattarelli, Erika Alessandrini e Lorenzo Sospiri. Poi anche qui sul messaggero si ricorda appunto quanto accaduto a Rocca Scalegna con il giocogliere colto da Malori in piazza, si accasce e muore davanti alla folla, Marco Filippone, pescarese di Cepagatti di 41 anni, si stava esibendo a Rocca Scalegna. Vani i soccorsi sindaco sotto shock, avanti ancora siamo a Bolognano, cuori e palloncini per l'addio a Luca, mi ha insegnato a sognare commoventi, le parole dell'amico del bimbo morto a 10 anni, tutta a Bolognano ai funerali, la piccola barra salutata da un picchetto di agenti di custodia. A San Valentino, sempre nel pescarese, depuratore sequestrato, veleni e rifiuti galleggianti nel Lavino, carabinieri forestali in azione, il sindaco Antonio Sai ha indagato per inquinamento, oggetto pericoloso di cose. Siamo ora alle pagine aquilane del messaggero Campo Mizi, studenti contro la dismissione dell'ex caserma. Lolli apre alla concertazione, la regione si è impegnata a trovare soluzioni di qualità. Udu all'attacco, senza alloggi migliori, noi non abbandoneremo la struttura. Continua a dividere il protocollo siglato per riorganizzare gli immobili pubblici. Poi ancora in basso, Corte dei Conti, parco scientifico condannato. Secondo i giudici conditabili, cospicue somme sono state dirottate per pagare amici degli amici. Poi ancora, andiamo alla pagina seguente, sempre restando all'Aquila. Ecco il cartellone del Comune, nel cartellone per il Natale, albero in Piazza Duomo, grazie al sossegno del Rotary Club, previsti una pista sul ghiaccio, mercatini ed eventi in centro. La casa di Babbo Natale per il divertimento dei bambini, confermata la Befana del 115 Capodanno, con il concertone, all'auditorium del parco, è previsto il consueto appuntamento del primo di gennaio. Avanti ancora, siamo in Valle Roveto, Santa Croce, il Comune chiama i carabinieri. Il sindaco Angelo Di Paolo avverte i militari che verbalizzano tutto, dei lavori in corso presso un pozzetto della captazione, le ruspe sono del patron Camillo Colella che tenta di riaprire una sorgente come aveva già annunciato. Continua la guerra con l'imprenditore molisano, segnalate altre irregolarità. E poi vediamo a Castel di Sangro, forestali diventati pompieri, ricorso al Tar. Avanti ancora, siamo alle pagine di Chieti, subito con la cronaca, la picchiano perché vuole vivere all'occidentale, tolta ai genitori, botte con il mattarello per una giovane di 17 anni che ha il coraggio di ribellarsi, il papà e la mamma di religione musulmana, indagati per abuso di mezzi di correzioni. L'inchiesta della polizia la coppia impedisce alla figlia minorenne di uscire con gli amici, ora è stata affidata una struttura protetta. E poi di Spalla, leggiamo anche di Paolo, l'Ateneo compri la casa dello studente Ater, opera in computer, il consigliere chiede un tavolo urgente, servono 500 mila euro per l'agibilità e piano anti-incendio. E poi sempre la cronaca in basso, scoperti con l'eroina per le feste in manette padre e figlio, la droga nascosta in un laboratorio tra gli attrezzi, i due avevano appena venduto una dose. E a vasto, sempre la cronaca, coniugi rapinati in casa da tre donne, festa dell'immacolata amara per una coppia di anziani derubati di gioielli e denaro contante. Indaga la polizia nella fuga in via Vico hanno speronato due auto in sosta, un colpo studiato, le vittime non sono state scelte a caso. Forse erano straniere dell'est, il commissario Capaldo allerta i cittadini fare sempre attenzione. Invece a Lanciano, brutto e costoso, città divisa sulla bete senziente. Eccolo qua, la bete della discordia, come scrive nella didascaria il messaggero Lancianesi scatenati dal vivo e sui social sulla bete è fatto con i bancali e c'è chi ne chiede la bonifica. Siamo ora a Teramo, vigili allarme alcol alla guida, test positivi anche la mattina nel complesso sono calate 4.000 multe, aumentano invece quelle con il Velox, auto vecchie, gravi carenze di personale, municipale in difficoltà per coprire i turni, parla il comandante Zaina, non ci sono più agenti che lavorano solo dietro una scrivania e il turno per strada tocca a tutti. Poi a Canzano lavorava come dentista ma era un odonto tecnico, i finanzieri lo hanno sorpreso in un ambulatorio fantasma mentre curava una paziente. E poi a Giulianova, ecco qui, cremazione e hospice vicino al mercato, genera molte perplessità, il piano di investimenti varato dalla Giulianova patrimonio, priorità al curso alle sociali, stanziati dal comune 140.000 euro per l'immediato adeguamento degli impianti antincendio nelle scuole Pagliaccetti e di Colle Ranesco. E poi sempre a Giulianova tornano ancora i ladri di biciclette, ne rubano sei in un condominio. Lasciamo il messaggero Abruzzo, ci torneremo per le pagine dello sport, approdiamo ora alla città e siamo a pagina tre, bacchettate di Borrelli per i ritardi delle SAE, il capo della protezione civile visita le zone del terremoto o visto cantieri senza maestranze al lavoro. La realizzazione delle casette va rilento in tutte le regioni ma l'Abruzzo rappresenta la maglia nera di questa classifica. Avanti a pagina cinque siamo alle vicende politiche terramane. Prime manovre verso il Partito Democratico l'ex assessore Cancio e Mimmo sbraccia sorpresi a prendere un caffè politico con Mariani e Fieni. Dopo la caduta di Brucchi gli ex consiglieri e amministratori di maggioranza si sentono liberi di giocare a carte scoperte. l'incontro conferma le affinità che serpeggiavano da un paio di anni tra Mariani e Sbraccia l'ex sindaco al momento sembra poter contare solo sulle liste di Dodo e sul consigliere Alberto Covelli. Avanti ancora le luminarie accendono il Natale Terramano rinnovata la tradizione in Piazza Martire e Corso San Giorgio si lavora per salvare il Capodanno. E poi ecco la notizia che aveva dato il titolo d'apertura della prima pagina della città sanità rischio durante le feste di Natale l'allarme del nursing per la carenza di personale negli ospedali pronti a dichiarare lo stato di agitazione la maggiore sofferenza si rileva nei pronto soccorso dei quattro presidi ospedalieri della provincia e poi e poi ancora opportunità di lavoro con le imprese innovative il progetto App Abruzzo prevede un percorso di formazione e un contributo da 17 mila euro per avviare l'attività i destinatari disoccupati o inoccupati che abbiano maturato una esperienza nel settore del digitale che siano laureati e poi ancora andiamo alle notizie che arrivano dalla provincia di Teramo qui siamo a Tortoreto la gestione dei migranti è fuori controllo impegno civico dice triplicato il numero dei richiedenti rispetto al previsto 200 cittadini di San Giovanni si oppongono all'arrivo dei migranti nel quartiere e poi a rischio lo storico carnevale di Sant'Egidio problemi logistici ed economici per proloco e contrade per la preparazione dei tradizionali carri allegorici anche quest'anno manifestazione la manifestazione è stata annullata a causa del terremoto e del maltempo il giallo della pittrice dunque siamo alle pagine di Giulianova verità nascosta nel computer del figlio due mesi dalla scomparsa di Renata Rapposelli la sola pista seguita dagli inquirenti è quella sui santoleri esami medico-legali dettagliati per capire come sia morta la Rapposelli l'autopsia non ha dato risposte a causa dello stato di avanzata decomposizione del corpo avanti ancora sempre a Giulianova la Giulianova patrimonio demolisce il mercato coperto al suo posto sorgerà un hospice per malati oncologici e lungodegenti e un centro per la riabilitazione per l'amministratore Luca Ranali la riqualificazione dell'edificio sarebbe anti-economica e poi ancora a Roseto rivoluzione in vista per gli uffici comunali il vice sindaco Simone Tacchetti annuncia assunzioni rotazioni e l'istituzione di una avvocatura interna un comune come Roseto dovrebbe avere 250 dipendenti ma al momento conta solo su 158 unità poi ancora sempre a Roseto spacchettato il recupero del pontile la decisione della commissione per agevolare il finanziamento della regione intanto è alla stretta finale il piano spiaggia droni al lavoro per rilievi topografici andiamo avanti con la pagina dedicata alla notte dei faugni ad Atri ecco qui il rito del fuoco in migliaia ad Atri per la notte dei faugni rinnovata anche quest'anno l'antica tradizione della città ducale tra concerti spettacoli mostre e allegria il gran finale alle 6 al termine della processione i mozziconi di ciascun faugno sono stati buttati tra i resti ancora ardenti del falò di piazza Duomo ecco alcuni dei momenti della notte dei faugni con il rituale con i concerti con la folla con un momento dei tanti avventori che hanno partecipato alla notte dei faugni riempiendo le vie le piazze del centro storico avanti ancora e siamo con la pagina dello sport Teramo la gara col Fano non si può sbagliare Diavolo in campo alle 16.30 al Bonolis Autamadio ballottaggio davanti favoriti Barbuti e Foggia confermato il 3-5-2 ma con la possibilità per Ilari di alzarsi per diventare trequartista in fase d'attacco Pietrantonio si riprende la corsia di sinistra con Varas spostato mezzala e qui uno sguardo anche agli avversari il Fano la cura breve inizia a dare risultati davanti occhio a Fioretti e Germinale il Fano dopo il cambio in panchina ha visto migliorare il proprio rendimento in difesa ci sono anche due grandi ex abbiamo introdotto la pagina dello sport allora uno sguardo alle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi poi andremo su centro e messaggero e daremo ampio spazio a Cesena pescarà anche con i nostri servizi ecco qui la gazzetta dello sport Scudetto Ring che chiaramente è la sfida tra Juventus e Inter di questa sera che monopolizza le prime pagine i campioni contro la capolista è un match trappesi massimi Iguain e Icardi hanno il colpo del K.O. Piani ci può risolvere con un gancio e Perisic con un jab c'è questo parallelismo pugilistico non c'è Buffon Guantoni Ascesni e Di Bala partirebbe dalla panchina e poi ancora sotto la testata Gattuso tutte le mosse per cambiare il Milan Zenga e la sfida Crotone tirerò fuori la qualità Zenga da ieri nuovo allenatore del Crotone al posto del dimissionario Nicola ecco qua il titolo del Corriere dello Sport Amici Mai Juve Inter stasera derby d'Italia di fronte le due squadre la cui rivalità affonda le radici nella storia in paglio un po' di scudetto Di Bala verso la panchina e sotto la testata Roma lo stadio del tuo popolo lettera di pallotta ai tifosi così diventiamo più grandi quindi tutto sport chi si fuma il Toscano Allegri contro Spalletti Juve Inter vale un pezzo di scudetto perdere nuoce gravemente alla salute chi si fuma il Toscano questa vista anche l'origine Toscana dei due allenatori torniamo alle pagine di centro e messaggero andiamo a vedere le pagine sul Pescala poi vedremo servizio e le dichiarazioni post partita ecco qui sul centro la crisi bianca-azzurra Pescala si butta via due volte in vantaggio regala i tre punti al Cesena il Delfino avanti al Manuzzi fino a nove minuti dalla fine poi il crollo 15 reti incassate nelle ultime quattro gare Zeman resta buon avvio di ripresa ma un errore di Zampano e l'autocoll di Brugman mettono le ali ai Romagnoli e poi ancora la società annulla i permessi alla squadra oggi alle 10 al Poggio faccia a faccia con il presidente Sebastiani e poi scongiurato il contatto con gli ultrafoggiani prima della gara evitato l'incontro sulla A14 tra le tifoserie il Foggia giocava alla Spezia quindi i tifosi erano sulla stessa direttrice ecco le pagelle Zampano flop pettinari inesauribile grave errore del terzino sull'1-1 Fiorillo evita un passivo più pesante standardo spaisato mazzotta distratto le uniche sufficienze sono Fiorillo 6,5 pettinari 6,5 le altre insufficienze c'è anche 1,6 per coda il resto davvero un naufragio Sebastiani Zeman deve trovare una soluzione il presidente furibondo la gara contro il Nomara sarà decisiva per tutti non solo per il Boemo e poi le parole di Zeman paghiamo errori individuali l'allenatore del Pescara spiega il K.O. e aggiunge non sono preoccupato se continuiamo a giocare in questa maniera e poi vediamo il messaggero vediamo la pagina dello sport del messaggero Pescara ora è notte fonda questo è il titolo del messaggero Biancazzurri rimontati e sconfitti 4 a 2 a Cesena subendo ben tre reti negli ultimi 15 minuti dopo un buon primo tempo e un ottimo avvio di ripresa arriva il crollo adesso la classifica è a rischio inutili le reti di Benarie e Pettinari espulso Valsania torna in bilico anche la posizione dell'allenatore poi tecnico squadra staff tutti a rapporto da Sebastiani in riunione convocata al Poggio Stellone Di Carlo e Colantuono in pre-allarme e poi le parole di Zeman troppe sciocchezze ma la prestazione c'è stata allora andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti e poi le dichiarazioni degli allenatori nell'immediato post partita nell'incredibile gara dice Sena un Pescara da due volti brutto nel primo tempo il più brillante nella ripresa esce a mani vuote e con le ossa rotte dal Manuzzi arrivando dopo l'ennesimo KO ai margini della zona play-out in Romagna il Pescara si è dimostrato ancora una volta fragile psicologicamente e incapace di far punti dopo essere andato per due volte in vantaggio c'è ora da essere seriamente preoccupati con una classifica che inizia ad essere traballante ed una situazione ambientale davvero pesante senza considerare i tanti giocatori indisponibili anche nella gara di domenica prossima all'Adriatico con il Novara a Cesena Zeman senza dieci titolari e dunque un'intera squadra fuori fra cui anche il portiere di riserva Pigliacelli deve ricorrere a scelte quasi obbligate in difesa torna a coda al fianco di Fornasier sulle fasce Zampano e Mazzotta centrocampo immutato rispetto al sabato scorso con la sorpresa in attacco di Del Sole al posto di Mancuso nel Cesena Castori deve fare a meno di Schiavone Cacia e Cupiz e ricorre al 4-4-1-1 fra gli ex pescaresi in campo Ceccone con Cascione che si accomoda invece in panchina sugli spalti quasi 12.000 spettatori con 500 tifosi biancazzurri agli ordini di Nasca di Bari si parte su ritmi forse nati con i padroni di casa pericolosissimi al primo minuto con Dalmonte che è pescato liberissimo in area calcio a botta sicure con Fiorillo che miracolosamente salva deviando il pallone in calcio d'angolo e prima sul palo dopo lo spavento iniziale i biancazzurri si sistemano meglio in campo Pescara si desta con Brugman che al 33esimo con un tiro ad effetto chiama Fulignati ad una parata complicata in calcio d'angolo nella ripresa si riparte con il Pescara pericolosissimo con Pettinari che di testa va a chiamare alla respinta in angolo il portiere di casa il Pescara spinge e all'ottavo è l'ex di turno Valzania a chiamare al salvataggio l'estremo romagnolo che poi è ancora prodigioso al decimo su Pettinari in campo c'è ora solo la squadra di Zemana che appare trasformata e ora l'11 romagnolo invece a soffrire tremendamente così dopo tanto attaccare il Pescara al quarto tentativo trova il meritato vantaggio grazie ad un tiro sporco al 17esimo di Benali che Fulignati non trattiene esplode la gioia dei 500 cuori biancazzurri presenti in curva nord nel Cesena intanto dopo vita si infortuna anche di noia con gli ingressi in campo prima di Fazzi e poi di Sbrissa il Pescara in campo non arretra e continua a spingere ma Zampano decide al 28esimo di travestirsi da Babbo Natale andando a regalare il pallone a Ialovo che se ne va verso Fiorillo e poi lo trafigge con un tiro preciso per il gol dell'1-1 tutto da rifare per Ile Pescara ripreso per l'ennesima volta in stagione ci vogliono due giri di lancette per permettere però la formazione adriatica di riportarsi in vantaggio sulla linea Brugman-Pettinari con la rete realizzata dal bomber biancazzurro che arriva così a quota 12 gol in stagione il finale di gara vede sofferenza in casa adriatica anche perché si infortuna Coda che lascia il posto a Stendardo che non fa nemmeno in tempo ad ambientarsi visto che sugli sviluppi di un calcio d'angolo Moncini con la collaborazione di Brugman va a segnare la rete del nuovo pareggio anche se il giocatore Cesenato appare in fuorigioco i biancazzurri si scoprono e così al quarantesimo rischiano anche la frittata ancora con lo scatenato Moncini che di testa fallisce la rete del 3-2 il Delfino però come spesso accaduto in questa stagione crolla nel finale subendo al quarantatresimo la rete dei locali ancora con Moncini il Pescara vede le streghe così al quarantacinquesimo arriva poi l'espulsione di Valzania prima dei cinque minuti di recupero che regalano alla formazione di casa al novantaquattresimo anche il gol di Don Corr per il 4-2 finale ed il veleno al novantunessimo dei tifosi biancazzurri che rifiutano il saluto della squadra è il momento più difficile della stagione con nove giorni a disposizione per ricaricare le pile in vista della gara con il Novara che sarà probabilmente decisiva anche per il destino di Zemane e i gol vengono perché si fanno errori purtroppo a noi sia sul primo gol che si vede poche volte sul campo di calcio abbiamo subito poi abbiamo fatto di nuovo gol per andare in vantaggio e sul secondo penso che autogol su Palo Alta dove noi sapevamo che Cesena è pericoloso poi il terzo gol che ha finito praticamente la partita perché di nuovo sbagliata uscita abbiamo subito terza poi sul quarto anche lì da stranamente da gente esperta che gioca a pala bassa su punizione è normale che ti ripartano e io il Presidente lo vedo ogni partita dopo la partita è normale che non è contento io ripeto io posso essere contento per la prestazione specialmente prestazione dell'inizio del secondo tempo purtroppo abbiamo fatto di nuovo troppo errori e ripeto errori si pagano cosa lei ha detto il Presidente subito dopo la partita lei ha detto io lo vedo ogni giorno e anche ogni dopo partita insomma parole di rassicurazione per lei va bene non è contento è preoccupato lei è tranquillo io da parte mia non sono preoccupato perché se la squadra gioca così mi sta bene bisogna eliminare quelle sciocchezze che stiamo facendo e lì è solo questione di concentrazione di applicazione eccoci rientrati gli ultimi titoli che andiamo a vedere poi anche l'ultimo servizio ecco qui per la serie C Teramo obbligato a battere il Fano al Bonolis per il basket ieri sera Pescara Corsaro nel derby Giulianova Campi e Teramo sono sconfitti Ortona ormai è buio poi ancora sul fronte Pineto quattro promesse convocate nell'ander il selezionatore Gentilini ha chiamato per un preraduno a Viareggio Mazzocchetti della Quercia De Chiara e Cannella torniamo sul centro ecco qui la serie C Asta scuote il Teramo è l'ora di tirare fuori gli attributi il diavolo senza vittorie da due mesi a fronte il Fano scuota rimaneggiata in avanti Foggia e Barbuti e noi ci congediamo con il servizio relativo alla presentazione di Teramo Fano con le parole del tecnico Antonino Asta la rassegna stampa di mattino 6 torna lunedì prossimo alle ore 8 vi ricordo anche gli appuntamenti con il TG6 di quest'oggi alle ore 14 alle 19 e alle ore 23 grazie a Claudio di Giacomo in regia grazie a voi per la cortese attenzione ora il servizio e poi la sigla importante scontro salvezza che si giocherà qui domani allo stadio Bonolis il Teramo riceverà il Fano che ha vinto l'ultima gara nell'ultimo turno di campionato contro la Triestina e reduce quindi da un buon momento il Teramo invece nell'ultimo turno ha riposato deve invertire la marcia soprattutto qui al Bonolis visto le due sconfitte contro Gubbio e San Benedettese e anche perché proprio al Bonolis passa la salvezza della squadra di Asta dobbiamo cercare di invertire la rotta più che mai anche quei parigini ce li teniamo stretti ci mancherebbe però dopo non risultano così ottimi se non sono coadrivati da qualche vittoria e adesso ci manca ci manca più che mai questa e cercheremo di portare a casa l'intera posta sapendo che non sarà facile per quanto riguarda la formazione dopo alcune prove di cambio di modulo Asta sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 ma con qualche cambiamento ad esempio Varas che dovrebbe tornare nel suo ruolo naturale di mezzala e così Pietrantonio potrebbe essere impiegato al suo posto da tutta fascia a sinistra per quanto riguarda l'attacco è ballottaggio a tre tra Foggia Barbuti e Tulli con quest'ultimo che però è stato poco bene negli ultimi giorni per uno stato influenzale il Teramo comunque dovrà rinunciare sia a Caidi sia a Calore per la squalifica con Milillo in pull position su Altobelli per sostituire appunto in difesa Caidi domani ancora di più mi aspetto e voglio da parte dei ragazzi una partita aggressiva una partita che dal fischio d'inizio dell'arbitro fino alla fine sia una squadra che cerchi di pressare l'avversario in tutte le zone ma non perché è una partita diversa dalle altre perché ho visto il Fano una squadra di ottimi palleggiatori e noi dobbiamo essere molto bravi ad aggredirli che le possiamo mettere in difficoltà facendo così evidenziamo anche di più quelli che sono i nostri pregi quindi mi aspetto veramente dire 11 leoni non lo so mettetela voi 11 giocatori assatanati che vanno alla ricerca della palla per ripartire per la riconquista immediata ecco qualcosa del genere per la riconquista immediata che vanno alla ricerca per la riconquista immediata per la riconquista immediata che vanno alla ricerca per la riconquista immediata